Dal 2012, grande rivoluzione nella storica azienda Rich Solar, affermata nella produzione di moduli e celle fotovoltaiche. Infatti la Rich Solar, con la sua affidabile e professionale esperienza di 7 anni, è diventata un fondo di investimento, una società che investe nella costruzione di grandi impianti fotovoltaici da proporre con la formula chiave in mano. Nuova strategia, nuovo target, investitori istituzionali, fondi comuni, banche, società di leasing, grossi investitori. Una nuova strategia che prevede anche l'espansione del mercato verso nuovi paesi, Romania, Est Europeo, Bulgaria e Ucraina.